Sarebbe stato un imprenditore foggiano a consegnare la tangente da 10.000 euro a Mario Lerario, l'ex dirigente della protezione civile della regione Puglia, in carcere dal 23 dicembre, dopo essere stato arrestato, subito dopo aver intascato la busta con il denaro. La busta, contenente 200 banconote a 50 euro, sarebbe stata consegnata da Luca Leccese, imprenditore di Foggia, finito ai domiciliari che nel corso dell'interrogatorio avrebbe ammesso di aver consegnato quel denaro. Lerario e Leccese, più volte intercettati, sono stati filmati dagli inquirenti a Bari, dove l'imprenditore Foggiano, il 23 dicembre scorso, avrebbe posto alcune ceste e pacchi nel bagagliaio dell'auto del dirigente regionale. Poi lo stesso imprenditore ha preso una busta dal proprio soprabbito per riporla nel vano portoggetti il veicolo di Lerario. Leccese in un primo momento ha negato aver consegnato soldi, limitandosi a parlare di cesti natalizie e champagne, ma davanti alle immagini estrapolate dalle telecamere posizionate nell'auto di Lerario, l'imprenditore ha ammesso aver dato quel denaro. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, l'imprenditore Foggiano sarebbe il destinatario di una serie di appalti, servizi e forniture. Tra questi gli interventi di messa in sicurezza della biblioteca Magna Capitana di Foggia e soprattutto gli interventi urgenti per la realizzazione di impianti elettrici, illuminazione e idrici da realizzarsi al cara di Borgo Mezzanone, una gara vinta per un importo di 2 milioni e 150 mila euro finalizzata alla realizzazione di una foresteria dedicata per mettere in isolamento e istituire una sorveglianza sanitaria per i migranti positivi al Covid. Tra gli altri progetti anche quello della realizzazione di uffici e centrali operative per l'aeroporto Gino Lisa di Foggia, destinato ad ospitare una serie di staccate della protezione civile. Nell'inchiesta è coinvolto anche un altro imprenditore, anche lui finito ai domiciliari, donato mottola di noci, accusato di aver consegnato il 22 dicembre, sempre all'erario, un'altra busta con 20 mila euro.